In Friuli, Venezia Giulia, Costa Crociere cerca, detti all'accoglienza, consulenti di vendita e tecnici luci, suono e video. 45 assunzioni in tutto per lavorare a bordo delle navi della flotta. L'iniziativa è stata presentata oggi a Trieste. I candidati saranno selezionati con il supporto dei centri per l'impiego regionali. Il 29 maggio sono previste le prove scritte a seguire quelle orali in modalità online. Il 5 e 6 giugno a Trieste sono in programmi i colloqui e le prove pratiche. Chi supererà le selezioni sarà messo ai corsi di formazione gratuita organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip FWG. Le candidature vanno presentate entro il 22 maggio sul portale della Regione. Tra i requisiti richiesti un titolo di studio pari al diploma e la conoscenza della lingua inglese. I dirigenti di Costa Crociere hanno ricordato che in Regione dal 2017, grazie alla formula vincente dei corsi di formazione gratuiti finalizzati all'assunzione, sono state formate circa 350 persone, delle quali il 97% è stato poi assunto per lavorare a bordo delle navi Costa.